Venerdì 16 giugno siamo a Lecco presso l'auditorium della Banca Popolare di Sondrio e siamo qui per l'anteprima della proiezione del film Cerchi di Luce interamente realizzato da Paolo Goglio, un regista e produttore televisivo nell'ambito di un progetto molto importante, Lombardia Felice vogliamo saperne di più con i protagonisti di questa iniziativa il mondo di luce Può esserci un mondo di anime abbracciate che si tengono per mano e che camminano, che camminano insieme in un grande progetto di pace e di amore e di felicità. Il progetto Lombardia Felice nasce per, come dice la parola stessa, per dare più felicità. La felicità è molto spesso un sentimento che tutti quanti rincorrono e noi diamo la possibilità a queste persone se hanno voglia di approfittarne di questo progetto per trovare meglio la felicità. Grazie di quattra esperienza. Grazie a tutti voi. Quindi noi siamo un po' l'università della rinascita, come dice Paolo. Il passaggio avviene probabilmente proprio questa sera, perché la trama del film dice che queste voci verranno portate a essere viste da qualcuno. In un ambito, in un contesto geografico, di rara dell'ezza, se ne parlava stamattina, il lago più bello del mondo. Il messaggio che ho piacere e che amo cercare di trasmettere è qualcosa che viene dall'ambiente. Un territorio che parlerebbe da solo, però non ha il linguaggio. Il nostro mestiere è quello di trasmettere, quindi ricevere queste immagini, interpretarle, tradurle. Questo è proprio quello che noi vogliamo cercare di fare con la grande magia di un territorio che io considero unico al mondo, in particolare per la sua bellezza e per la qualità delle grandi magie che ci offre. Salute, benessere, rispetto dell'ambiente, opportunità di lavoro, comunicazione, creatività, laboratori, sono i temi che hanno contraddistinto la serata a Lecco di presentazione del progetto Lombardia Felice, che ora si diffonderà in tutta la Lombardia portando questo messaggio. Si può essere felici, basta volerlo. Per saperne di più www.lombardiafelice.it